Ciao e bentornati su Recensioni Minute. Oggi vi parlo di un gioco velocissimo da spiegare, composto da queste super mega tesserone, che peraltro ha già venduto più di 100.000 copie in tutto il mondo. Vi parlo quindi di Forth, gioco di Dominic Era Hard per 2-4 giocatori, una durata di circa 20 minuti a partita, edito in Italia dalla Olifante, che ringrazio per avermelo appunto fatto scoprire. Vediamo insieme. Recensioni Minute Nel proprio turno un giocatore gira faccia in su una tessera a piacere tra quelle presenti al centro del tavolo. Ora possono capitare tre casi. Il primo è che il valore di tale tessera sia inferiore all'ultima tessera piazzata nel bastione del giocatore che ha il turno in corso. In tal caso la tessera è girata nuovamente a faccia in giù e tocca al giocatore successivo. Oppure la tessera ha un valore superiore all'ultima piazzata nel proprio bastione. In tal caso il giocatore potrà decidere se girarla a faccia in giù e passare il turno al giocatore successivo oppure piazzarla all'estrema destra del proprio bastione in questo modo. Si continua a giocare così fino a quando un giocatore non riesce a lineare 10 tessere in ordine crescente nel proprio bastione appunto. A questo punto la partita termina immediatamente e si farà un punto per ciascuna tessera piazzata nei propri bastioni più punti speciali per ciascun personaggio che è rappresentato sulle tessere piazzate. Si fa la somma e ovviamente il giocatore che ha la somma più alta è dichiarato il vincitore. Come avete visto non mentivo nell'introduzione. Il gioco si spiega veramente in una manciata di secondi e vi dico peraltro che quella che avete appena visto è la versione completa del regolamento. Forti infatti prevede una modalità semplificata del regolamento che peraltro però vi consiglio solo se avete dei piccoli al tavolo quindi bambini magari di 6-7 anni oppure se proprio avete delle persone che non hanno mai giocato da tavolo e non volete particolarmente spaventarle anche se come avete visto c'è poco da spaventarsi. In tale modalità non ci sono i punteggi quindi i personaggi sono totalmente inutili ai fini della partita e semplicemente vincerà il giocatore che per primo mette 10 tessere nel proprio bastione. Concentriamoci quindi sulla modalità completa. Innanzitutto avete visto che c'è una componente di memory all'interno di questo gioco ovvero sia quando la tessera viene rivelata se il giocatore non decide di piazzarla nel proprio bastione essa viene rimessa nella stessa posizione a faccia in giù. Quindi è fondamentale stare bene attenti durante la partita in modo tale che quando sarà il vostro momento quando deciderete che quella tessera è il momento di piazzarla nel vostro bastione dovrete andarla a prendere a colpo sicuro. Perché dico quando sarà il vostro momento? Perché le tessere sono numerate da 2 a 45 quindi è vero che dovreste tentare di prendere sempre le tessere il più vicino possibile a dove siete voi. Quindi se avete piazzato un 12 ovviamente cercherete un 13, un 14, un 20 potrebbe essere già un po' tirato per le orecchie ma diciamo che se avete il 13 e viene girato un 30 è molto probabile che deciderete almeno per il momento di non piazzarlo. La prima cosa da guardare è banalmente se vi stanno 10 tessere nel vostro bastione oltre a quella che avete appena preso. Quindi se dal 13 prendete il 30 è vero che è un bel saltone ma tutto sommato tra il 30 e il 44 ci sono ancora 14 tessere da scegliere all'interno del piano di gioco e quindi ci state tranquillamente, non siete in affanno. Allo stesso tempo potreste liberarvi un po' anche dell'angoscia e della pressione degli altri giocatori se state su una decina molto più avanti diciamo tutti i giocatori stanno cercando le tessere tra il 10 e il 20 e voi avete già iniziato a guardare quelle dal 30 in poi diciamo che quelle che loro gireranno e che a loro ancora non interessano per voi potrebbero essere proprio la tessera giusta. In ultimo ma non meno da trascurare è che non è obbligatorio avere 10 tessere nel proprio bastione per vincere. Io stesso ho vinto una partita nonostante non fossi il giocatore con le 10 tessere anzi ne avevo solamente 6 all'interno del mio bastione in quel momento ma avevo creato talmente tante combinazioni di punteggio che ho battuto senza problemi il giocatore che aveva fatto finire la partita. Per quanto riguarda le abilità vi dico che ci sono principe e principesse ad esempio che vanno insieme fra di loro e fanno punti singolarmente ma insieme se fate la copia ne fanno ancora di più abbiamo un re abbiamo una regina abbiamo un mago che vi dà l'abilità speciale ad esempio di poter piazzare una tessera con qualsiasi numero all'interno del vostro bastione quindi anche con un numero più basso e poi c'è anche un pizzico di interazione diretta ci sono dei cannoni sparsi fra le varie tessere che permettono di distruggere un'altra tessera all'interno di un bastione di un vostro avversario. È vero quindi che c'è un'interazione diretta distruttiva ma tutto sommato vi dico che non vi darà tanto fastidio ve ne potrebbe dare un po' di più magari in una partita a due giocatori in cui siete proprio nel testa a testa tutto sommato puoi piazzare anche la tessera con il cannone vi fa solo un punto proprio il punto della tessera piazzata e peraltro potreste anche decidere di difendervi piazzando delle torri tra torre e torre tutte le tessere sono invulnerabili quindi c'è interazione ci sta per mettere un pochino di pepe nella partita ma in termini di economia sulla vittoria finale diciamo che conta poco. In conclusione vi dico che questo forte mi ha colpito decisamente in positivo regolamento semplicissimo apprendibile da tutti in un attimo ma ci sono delle domande interessanti dietro a ogni tessera pescata dovete decidere se prenderla per il numero per il disegno che c'è sopra solamente per portarvi avanti insomma niente di spacca cervello ma sicuramente una partita interessante e che vi darà soddisfazione al termine della stessa con questo finito vi saluto e vi dico ciao e alla prossima In sostanza non avevo mai sentito parlare di questo forte ma sono molto contento di aver rimediato detto questo se vi è piaciuto il filmato lasciatemi pure il pollice su altrimenti il pollice giù ricordatevi di iscrivervi sia su youtube che su telegram che su instagram per rimanere sempre aggiornati nel caso vogliate sostenere il progetto recensione minute c'è sempre la possibilità di farlo con un caffè virtuale su tp e sbloccarvi anche dei bei contenuti extra nel frattempo e poi vi ricordo di sfruttare anche il codice speciale per averlo sconto 20% su tutto il catalogo pampling niente ho finito davvero ciao ne